... Presto, un'ora via, un'ora di alimentare, un'ora di casareccio, pane, cotto stanotte, posto. Ma tu avrei ancora in allo modo, volevo ascoltarlo, prego. E' eccezionale, questo sarà un bel di più, anche il bambino, già profumava la rosaio, generi alimentari di periferia, un baisino, buonissimo. Ma non è proprio un bambino? No. Ma dove sono le, c'è la canna, vissi? Eh? Queste sono carine, le dà, buonata. Non è... Eh? 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 Grazie a tutti. Ecco, ecco, ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, che bello andare. Mario, voglio prendere tutto che c'è la rada sputtata? Da gusto. No, ci schietta. Da gusto. Ah, ma l'ha fatto da gusto. E ci schietta dopo non ci schietta. Ma no, la vuole in tira giù la riagganciamo, che ne so. C'è sto venticello, tanto simpatico che... No, la vuole in tira giù la riagganciamo. No, la vuole in tira giù la riagganza. No, la vuole in tira giù la riagganza. No, la vuole in tira giù la riagganza.